Dopo quasi 40 anni di incarico, Maurizio Crispino lascia il posto a Carmine Di Biasi, in veste di nuovo comandante della pulizia locale della città di Agropoli, già a partire dal 1 dicembre di questo mese. Motivo della scelta è dovuta al fatto che Di Biasi ricopriva già il ruolo di vice comandante del corpo, nonché ai numerosi riconoscimenti ed encomi conseguiti durante il suo lavoro, senza alcuna sanzione disciplinare. Numerosi, infatti, sono stati seminari ai corsi di formazione e specializzazione svolti presso la scuola regionale di pulizia locale ed altri enti formativi. Ciò anche tenuto conto del fatto che la città di Agropoli è sempre più centro di maggiore importanza politico-amministrativa del Cilento e della provincia di Salerno, nonché fra le mete turistiche più gettonate. Al nuovo comandante della pulizia locale, riconosciuto anche il grado di maggiore, un titolo onorifico senza modifica della dotazione organica e del trattamento giuridico ed economico del beneficiario, o d'altro onere di spesa, a carico del comune. Al nuovo comandante della pulizia locale è riconosciuto anche il grado di maggiore, un titolo onorifico senza modifica della dotazione organica e del trattamento giuridico ed economico del beneficiario, o d'altro onere di spesa, a carico del comune. Sarà invece Maurizio Cauceia a ricoprire il ruolo di vice comandante della pulizia locale, prima ricoperto dallo stesso Di Biasi.